Qualcuno ha detto che per essere felici bisogna ringraziare. Il che non è sbagliato, ma qualche altro ha detto ancora qualcosa di più vero e di più profondo. Per essere felici bisogna inondare la vita di gratitudine. C'è una differenza tra il ringraziare e la gratitudine? Credo proprio di sì. Non sempre ringraziare vuol dire essere grati. Per me ringraziare vuol dire un atto di cortesia, di educazione, di gentilezza come diciamo noi. Ma guardate che molte volte dietro la cortesia, la gentilezza degli uomini, dietro l'educazione, molte volte dico, non sempre, si nasconde anche la falsità. Si nasconde la forma, si nasconde l'apparenza. La gratitudine invece nasce dal cuore autentico, vero. Un cuore autentico è un cuore grato. La gratitudine è qualcosa di più profondo. La gratitudine, direi, è qualcosa di religioso, non necessariamente legato solo alla nostra fede credente. È grato l'uomo che sa che lui proviene da qualcuno. È grato l'uomo che sa che lui vive per qualcuno. È grato quell'uomo e quella donna che sanno che loro dipendono. Ed è in questa dipendenza che vi è la felicità. Volete un esempio di gratitudine vera? Volete un esempio di come un cuore autentico è grato? Vi leggo solo una parte di un cantico di gratitudine bellissimo e che tutti riconosceremo. Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue solle laude la gloria e l'onore e tonne benedizione. Ad te solo altissimo, se confane, et nullo homo enne d'igniutemento vare. Laudato si e mi Signore, com tutte le tue creature, specialmente messorlo frate sole, lo quale iurno et allumini noi per lui. Et te lo e bello e radiante com grande splendore. Da te altissimo porta significazione. E poi laudato si e mi Signore per sola luna, per le stelle, laudato si e mi Signore per frate vento, per sola acqua, laudato si e mi Signore per frate fuoco, laudato si e mi Signore per sorella morta, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco il cantico, il famoso cantico delle creature di Francesco d'Assisi è un esempio di come il cuore sa essere grato. di come un cuore autentico come quello di Francesco è grato al creatore, perché lui si scopre, perché lui si è scoperto ogni giorno, piccola creatura, anzi, secondo le sue parole, insignificante creatura. Quindi un cuore grato, la gratitudine, che è espressione di felicità, nasce anche e soprattutto dall'umiltà, dal sentirsi humus, dal sentirsi provenienti dalla terra. Quel cuore di Francesco, pieno di gratitudine, perché pieno di Dio e della gioia dei figli di Dio. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti. Ciao a tutti.